Tutte andiamo di fretta la mattina, tutte, a volte anch'io, quindi parto con un correttore per coprire le mie occhiaie, un pennellone a lingua di gatto gigante, naturalmente ho già fatto la mia skin care, pochissimo prodotto mi aiuterà a neutralizzare le mie occhiaie scure, sto usando chiffon, chiffon è un correttore scuro, mi raccomando, io sono molto scura e il chiffon a mio avviso copre le occhiaie violacee, marroni scure, può coprire anche le macchie, presso e fisso poi con una cipria. Vediamo ora il matitone quando abbiamo fretta, quando vogliamo che il trucco ci duri dalla mattina alla sera, quando non abbiamo tempo da perdere, quando vogliamo avere un effetto che si veda, ma al tempo stesso duratura. La disponibilità dei nostri matitoni è tornata per tutti quanti, abbiamo dei colori opachi, abbiamo dei colori shimmer, manca un color burro, deliberate, che è quello più chiaro, opaco, però abbiamo altre tonalità molto interessanti, vedete tra cui questo nero, laudable, molto molto pigmentati. Questi matitoni non sono retroversibili, nel senso che una volta alzato il matitone, la punta non torna più indietro, quindi fate attenzione. Utilizzerò un colore shimmer e un colore opaco, lui si chiama laudable, che è un nero luminoso e lui si chiama talented, che è un grigio talpa opaco, meraviglioso. Vediamo come applicarlo, ci sono diversi modi, si può applicare sia con un pennello a lingua di gatto, ma semplicemente anche con un dito, guardate, laudable, alzo la mia palpebra per arrivare all'attaccatura delle ciglia, mi sporco il dito, visto che magari in tante mi scrivete che non siete capaci ad utilizzare i pennelli, sappiate che questi matitoni sono facilissimi, come tutti i matitoni da trucco, anche utilizzati con le dita, sapete che io non amo molto utilizzarli con le dita. Poco prodotto alla volta, l'intensità la decidiamo noi. Bisogna essere molto veloci per sfumarli. Allora, siccome sono molto fissativi, io li consiglio a tutte quelle persone che magari hanno il problema che la matita cola o l'ombretto non sta fermo, non siete abituati a darvi il primer occhi. Quindi diciamo che questa soluzione è una soluzione veramente efficace a 360 gradi, perché da lì non si muovono. Io sto facendo tutto quello che devo fare solo con il dito e sto andando un pochino, come potete vedere sulla palpebra mobile fissa, sempre con lo stesso colore. Si fissano velocemente, quindi se io lo applico e poi aspetto e vado a sfumarlo dopo, sarà impossibile sfumarlo. Se voglio intensificarlo, vado direttamente con il matitone, perché vedete la punta è grossa e poi col dito alzo e spumo. Intensifico di più la parte della palpebra mobile, volendo faccio anche un po' una infraccigliare e tutto con un dito, un dito. Stop! Con questa punta così grossa, come potete vedere, abbastanza importante e grossa, il dito ancora sporco, non vado direttamente qua sotto perché rischierei di fare un tratto troppo grosso. Quindi prendo un pennello trasversale, lo sporco un po' di nero e vado fra le ciglia, ma anche posso andare anche nella rima interna del mio occhio, perché comunque sono matitoni occhi, ben tollerati, non danno fastidio. Qua posso fare un tratto anche ad occhio aperto, esterno. Oppure se voglio posso andare anche così. Ok, questo tutto solo col dito. Laudable. Guardate già come ha trasformato il mio occhio. Di qua vado con Talented che io amo ed è un grigio. Posso andare direttamente così oppure fare la stessa cosa, se non voglio sbagliare, con il polpastrello del dito. Alzo la mia sopracciglia, così posso arrivare fino all'attaccatura cigliare superiore e con questo grigino che ho sporcato il mio polpastrello, vado su tutta la palpebra mobile fino ad arrivare all'incavo del mio occhio. Qua adesso salgo, sempre con lo stesso prodotto, perché col polpastrello del dito vado a scaldare anche il matitone. Di conseguenza sarà più facile per me sfumarlo, perché diventa un po' più cremoso. e vado a creare questa transizione qua dove ho l'osso. Posso aggiungerlo a piacimento e qui vado a fare la mia sfumatura. Cerco di stare attaccata alle ciglia superiori per riempire un po' tutto il mio occhio. Vedete di qua è molto più tranquillo come colore. Con Talented che è un colore opaco, posso andare a intensificare un pochino di più con un matitone marrone, sempre opaco, perspicius, sempre col dito sporco, il marrone opaco, vado un po' nell'angolino, alzo, guardate quanto scrivono, mamma mia! Si fissano veramente velocemente, se hai paura che ti coli la matita, usa il matitone, lo vado a sfumare con un dito pulito. Cioè non vanno, non vanno via, non si muovono assolutamente, non si muovono. L'ho preso troppo. Sempre solo col dito ragazzi, non sto usando i pennelli. Sapete quanto io non ami truccarmi col dito. Due colori diversi, un trucco diverso, sempre. Tutto col dito, le tracce del dito. Quindi facilissimi, resistentissimi, non vanno via con l'acqua, non si muovono, rimangono fissativi. Avete potuto vedere come si sfumano velocemente, perché se si aspetta troppo, si fissano lì e non si muovono più. Questi sono i matitoni unique. Meravigliosi, pigmentati, facili anche da utilizzare, facili da utilizzare anche con le dita. E quindi per tutte quelle donne che hanno fretta, velocità, due minuti al mattino e vogliono delinearsi bene lo sguardo. Naturalmente dopo mascara, se volete una base viso fondotinta. Io ho semplicemente coperto le mie occhiaie con il correttore chiffon. e poi si continua con il trucco e si parte per la propria giornata. Un bacio a tutte!